buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola ragazzi oggi parleremo dei famosi bla 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 che è attorno a te da quando sei su questa terra c'è molta gente guru blasonati gente comune comuni mortali gente da bar o da disco pub che bla 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 vogliono cambiare vita vogliono spaccare il mondo vogliono fare n'import quatico in francia ma di fatto solo bla 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 perché esiste questo chiacchiericcio questo parlare da bar perché nessuno osa di fatto rischiando di lasciare la situazione pessima che hanno oggi per raggiungere una situazione auspicata perché non passano dai bla 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 alle azioni di fatto certo oggi col senno di poi 53 anni rifletto che anch'io sotto sotto quando ero uno studente lavoratore senza una lira in tasca ero più o meno così ostico titubante conformista ipnotizzato dalla massa dai miei genitori dalla paura di sbagliare dal perfezionismo a cambiare situazione anch'io sotto sotto ero una bla 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 dentro di me voglio cambiare non voglio fare il dipendente non mi piace questa vita mi sento stanco che vita di mierdas dicono in francia in spagna maledetto a me voglio morire tutte belle frasi trasmesse da amici di altri amici dei famosi bla 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 lui è un imbroglione quell'altro un truffatore non mi fido mi manipola e bla 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 restavo sempre nello stesso olio bollente con le mie ansie le mie paure il mio stress al cubo a livello esponenziale il mio rinunciare dalla mattina alla sera perché perché nessuno mi aveva insegnato veramente cos'era l'ipnosi vera e professionale avevo paura pensavo di vendere l'anima al diavolo pensavo che si trattasse di sette sataniche diavolerie perché vedevo film di zombie l'ipnosi da spettacolo giucas casella in italia ed altri importanti esponenti all'ipnosi da spottacolo anche all'estero in canada francia stati uniti e compagnia bella per cui bla 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 tra me e me era un continuo bla bla voglio ma non riesco voglio ma non posso voglio ma 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 bla 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 poi si mettevano i famosi bla 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 torno a me amici parenti amici da bar da spiaggia possiamo dire e quindi io rimanevo sempre nel mondo dei bla 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 finché a un certo punto sai tante volte nella vita capitano come dice pablo coeglio se non lo conosci ti invito a leggere i suoi testi segui segnale io segui un segnale un mio fratello il fratello piccolo di nome alessandro mi regalò un libricino piccolino di pnl che non sapeva all'epoca né che cosa significasse pnl programmazione neurolinguistica da lì l'ho lessi velocemente e all'epoca non ero un lettore tanti anni fa mi colpì era contro intuitivo non ci avevo mai pensato e poi da lì inizio tutto il mio viaggio del famoso salmone non dell'eroe andando al contrario alla fonte delle fonti alla verità delle verità alla mamma delle mamme passando dal pensiero positivo da testi antichi lessi più 2000 libri ero invasato immerso completamente e arrivando all'ipnosi ericksoniana di milton erickson ottenendo risultati strabilianti mischiando e miscelando le varie tecniche che leggevo nei libri risolvendo casi impossibili fino a un certo punto e poi arrivare alla mamma delle mamme che l'ipnosi vera e professionale della dottoressa rinna prunini del professor dottore michel anghi il garai di los angeles baby hills che poi diventa della mia ipnosi perché mi sono certificato ho preso un master a los angeles in ipnosi vera e professionale nell'ipnosi dcs del dottor claudio saracino ragazzi questa è la mia storia per cui sono passato dai bla bla ai fatti e te cosa aspetti o puoi sederti da solo oppure fare il percorso che ho fatto io anche se ci metterai degli anni oppure puoi sederti presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona della tua città del tuo paesino che abbia però già affrontato il tuo caso iniziare un percorso oppure scaricare perché il sottoscritto a sospeso al momento di una sessione di ipnosi dcs online su skype in qualsiasi parte del mondo oppure puoi scaricarti un audio mp3 dcs che può fare per te oppure il tuo caro e cambiare la tua esistenza passare dai bla 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 ai fatti veri fatti veri senza mai senza se ok non lo dico tanto per e a prescindere dal sottoscritto tu lasciami da parte non ti curar di me ma guarda e passa la mia mission quella non di vendere gli audio mp3 dicesse a cui sinceramente non mi compete perché ho ceduto i diritti all'associazione i pronunci associati di los angeles beveris a me interessa sdoganare questa arte questa scienza che anche chi nel mondo dell'ipnosi la utilizza non la pubblicizza abbastanza per darti una speranza uno strumento in più per cambiare la tua vita la tua esistenza su questa terra ok quindi passa dal mondo dei bla bla al mondo del di chi fa azione degli action man degli action people delle persone che agiscono invece di parlare passa dalla mia prima fase di vita alla fase attuale diventa qualcuno con tanta energia con tanta voglia di vivere con tanta 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 sicurezza in se stessi ok e vedrai che uscirà la luce spunterà la luce dal buio della tua del tuo subcosciente fidati funziona 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 fammi tutte le domande del caso non aver paura anche le domande le più banali e più stupide non ti curare serve scrivi commenta perché possiamo aiutare tanta gente insieme e visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com visita la mia fan page su facebook ipnosi autoipnosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cesta il dottor claudio saracino e fa share condividi con amici parenti perché può essere quel quid quella molla che gli cambia la vita veramente la molla anche chi non vuole il tuo aiuto un tuo caro una tua cara o che non può essere aiutato funziona ragazzi funziona se vedi tutti i miei video capirai il perché e seguimi anche su instagram e twitter benessere ipnosi soluzione di cesta il dottore claudio saracino e stoppa e bla bla e attento a ciò che dice ciò che pensi perché può diventare la profezia della tua vita lo diceva san francesco d'assisi ai 1100 dopo cristo eppure aveva studiato l'ipnosi perché un bacio un abbraccio è la prossima dal dottor claudio saracino ciao